Coach Finetti, due gare disputate dall'APU All Well West Udine e subito le prime due vittorie con la sensazione che questa squadra stia migliorando e crescendo giorno dopo giorno, è così? Assolutamente sì, la sensazione di crescita è palpabile sia durante la settimana sia durante le singole partite quindi questo ci dà fiducia, ci dà consapevolezza, vedere che la squadra pian pianino sta facendo sempre di più passi verso quelle che sono le richieste sia da un punto di vista del protocollo di lavoro sia da un punto di vista offensivo per oliare alla perfezione gli ingranaggi questo è sicuramente un ottimo segnale Domenica alle 18 l'APU All Well West Udine farà visita a un mana chiusi già affrontata la scorsa stagione nei play-off 3-0 risultato in posto dei bianconeri in semifinale e chiuse che al momento è ancora ferma a quota 0 in classifica dopo il K.O. supplementare Nardò e la sconfitta interna contro 100 che possiamo considerare un po' la squadra di rivelazione di questo avvio di stagione che avversario incontreremo? Personalmente credo ci siano da sottolineare due aspetti il primo riguarda strettamente la partita di domenica incontriamo una squadra che ha già perso due partite e quindi si trova a giocare la seconda consecutiva in casa e quindi questo vorrà dire sicuramente che troveremo una squadra molto agguerrita una squadra che vorrà sicuramente invertire la tendenza di questo inizio di campionato il secondo aspetto legato proprio a che tipo di squadra andremo ad affrontare possiamo dire che sono cambiati diversi attori ma il copione è rimasto lo stesso questo a testimonianza dell'impronta che Coach Bassi e il proprio staff riescono a dare a questa squadra qua ovvero una squadra che come l'anno scorso adora giocare il gioco in transizione adora attaccare nei primi 5-7 secondi dell'azione ed è una squadra che unisce a questo gioco in transizione anche una spiccata capacità quando le percentuali al tiro da tre punti la supportano nel giocare molto bene le situazioni di extra passaggio e di penetra e scarica Nella gara Nardò protagonista seppure non è arrivata la vittoria Medford con 27 punti domenica invece si è messo in luce Daniel Donzelli 19 di valutazione con 12 punti nel suo bottino personale un'ala di 200 cm classe 96 che tu conosci molto bene per averlo allenato a Biella Assolutamente d'accordo un'analisi corretta i numeri che produce Daniel non sono scelto una novità un ragazzo innanzitutto un grandissimo lavoratore una bravissima persona ed è un giocatore che ha avuto un percorso principalmente da alla piccola quindi questo gli conferisce supportato anche da una stazza fisica importante la capacità di giocare con la doppia dimensione quindi giocare sia a fronte a canestro che a spalle quando si ritrova si ritrova marcato da un avversario di taglia inferiore in aggiunta a Donzelli sicuramente da considerare quello che è il creatore di gioco principale di chiusi il faro dell'attacco della squadra toscana che è Lester Medford confermato dalla passata stagione un giocatore che ha già fatto vedere di che pasta è fatto nei playoff dell'anno scorso un giocatore che si sposa molto bene con la filosofia di squadra quindi un giocatore al quale piace molto spingere in campo aperto A proposito di Ali Lapiu sta vedendo sbocciare a pieno un giocatore come Ethan Esposito capace di sia giocare da 4 che da 5 con numeri davvero impressionanti come quelli realizzati sabato sera contro Sansevero questo è un giocatore da un potenziale che sembra veramente importante Sì, direi principalmente tre aspetti vanno sottolineati il primo è la fiducia che il club e lo staff tecnico ha riposto in Ethan nel mercato della precedente stagione questo era l'obiettivo affiancare al nostro capitano giocatore esperto di questa categoria un ragazzo giovane e ambizioso il secondo aspetto è legato alla crescita nelle ultime due o tre settimane perché dopo una partita in casa contro la Stella Azzurra Roma durante lo spareggio della Supercoppa Ethan ha giocato una partita oggettivamente al di sotto delle proprie potenzialità questo gli è stato fatto notare dal coach il terzo aspetto è legato all'ambizione e alla capacità che ha Ethan di lavorare quotidianamente perché recepito il messaggio del coach si è messo in discussione si è messo a lavorare e per il momento sembra aver ingranato la strada giusta lui sa in prima persona che deve lavorare quotidianamente per poter raggiungere determinati risultati ma poter raggiungere pi触ati Ciao